Grazie a tutti Siamo una squadra competitiva quindi mi aspetto veramente che i ragazzi divano il massimo domani Voglio una squadra tosta, aggressiva, determinata e intelligente nel cercare di prendere i tre punti Ecco a Lecce abbiamo visto un cambio di modulo, si è passato a questo 3-4-3 quindi speculare rispetto a Lecce Ecco vedremo ancora qualche variante in questa gara o hai intenzione di andare avanti con queste tre punte? No no adesso intanto posso dire che sicuramente giocheremo con la difesa a 4 Infatti rientro di Cancellotti e mi permette di schiarare la difesa a 4 Devo fare ancora qualche valutazione sulle condizioni di Del Sante che purtroppo non sono perfettissime E niente poi domani mattina decido però a prescindere dai moduli, dallo schieramento Quello che mi interessa è che la squadra dia una risposta forte sotto il profilo della determinazione e della voglia Proprio di dare tutto, di giocare con lo spirito giusto da grande squadra Quindi è quello che mi aspetto per domani Ecco è proprio il discorso che diceva lei, lo spirito giusto, la voglia Sembra un po' che la Juve sta per la smarrita dopo la gara con il Benevento Io che la seguo posso dire che fino a quella gara davvero si è giocato bene Si meritava forse qualcosa in più anche in quelle due gare Matera e Benevento Poi c'è stato un calo, questo è dovuto solo a un fatto psicologico o c'è qualcos'altro? No, diciamo che forse la gara con l'Ischia ha lasciato delle scorie negative, importanti Però dal punto di vista dell'impegno quotidiano ai ragazzi non posso dire niente Perché si allenano bene, con molta professionalità E' chiaro che dobbiamo tirare fuori qualcosa in più tutti quanti Perché possiamo e dobbiamo far di più, noi lo sappiamo Come sapete non mi appello mai ad assenze, a problemi e non vogliamo alibi, non ci vogliamo piangere addosso E' chiaro che l'auspicio comunque è quello di avere più uomini a disposizione Per poterci giocare le nostre carte contro tutti alla pari Ecco lunedì possiamo dire che finalmente si chiude questo calciomercato Perché è indubbio che qualche pressione sui calciatori psicologicamente la si ha Perché si parla di Bombagio, Alcatania, tante operazioni, chi entra, chi esce, chi va via Ecco dopo questo periodo lei pensa che davvero poi si potrà concentrare bene sul proseguo della stagione? Assolutamente sì, il mercato di gennaio per forza di cose rischia di destabilizzare un po' l'equilibrio Individuali ma anche di un gruppo Io adesso non voglio pensare assolutamente al mercato Mi ripropongo di sentirci anche martedì se volete a fare il sunto di quello che è stato Noi dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domani che per noi è di vitale importanza Ecco proprio per quanto riguarda gli ultimi arrivi E' arrivato Diop, è arrivato Lisi Ecco un suo giudizio su questi calciatori anche se Lisi forse è stato meno tempo rispetto a Diop Come li ha visti? Ma Lisi comunque è un giocatore che conosco Diop lo conosciamo tutti E' chiaro che se sono venuti qua è perché avevamo voglia di averli Così come per il cieco Navratil che spero di avere a disposizione la settimana prossima Però come ho detto prima ne parliamo martedì compiutamente Adesso pensiamo a domani che come ho detto prima per noi è una partita di vitale importanza Ecco un po' sui mugni da parte del pubblico perché in tanti hanno detto Ciullo ha pagato per quanto riguarda gli risultati che non sono venuti Adesso lei si sente un po' sul banco anche degli imputati Visto che è vero che c'è stata questa striscia lunga di risultati Però non è la gara di Lecce che determina questa idea Però adesso i punti di Lecce sono davvero a mancare Ma diciamo che purtroppo per noi a Lecce è stata la nostra peggior partita In relazione al fatto che eravamo nella peggiore situazione possibile Per poter rischiare una squadra più equilibrata possibile Tra l'altro confrontandomi con gli amici miei di Lecce Mi hanno detto che hanno fatto le migliori partite del campionato Quindi se a questo si aggiunge la nostra situazione è chiaro che ci sta anche la sconfitta Detto questo dal punto di vista dell'impegno ai ragazzi non rimprovero niente Poi per il discorso personale Io penso che avete imparato a conoscermi Mi metto in discussione ogni giorno Quindi sono consapevole delle responsabilità che ho Sono sereno perché quello che conta per me è il lavoro sul campo È chiaro che so che devo fare di più come lo devono fare i ragazzi Però a volte basta una piccola scintilla per poter cambiare Mi auguro che la ritroviamo con il recupero di tutti i giocatori Io credo che difficilmente Anzi mi auguro perché in passato non mi è mai successo E mi auguro che in futuro non succeda mai una situazione come questa Perché anche l'arrivo di Del Sante che doveva essere il nostro fiorallocchiello Purtroppo per sua sfortuna e per nostra sfortuna non sono mai riuscito a impiegarlo Nelle migliori condizioni Detto questo non è un alibi Infatti è un dato di fatto So benissimo le responsabilità che abbiamo Però ho sempre puntato sul lavoro Ho sempre cercato di mantenere l'equilibrio giusto Anche nelle autovalutazioni della squadra E quindi io sono sereno E' chiaro che sono molto determinato dentro Perché da lavoratore da campo Cerco e cercherò di fare in modo di trovare le soluzioni possibili Affinché la squadra renda nel miglior modo possibile Per quanto riguarda un'ultima considerazione Ecco proprio sul Catanzaro Il Catanzaro viene da un punto nelle ultime tre gare La Juve è stabile da due nelle ultime tre gare Diciamo che possiamo considerare che sono due squadre Ecco un po' alle circa di punti Erra generalmente fa giocare la sua squadra a viso aperto Non è un uro che gli piace chiudersi Lo ha fatto vedere anche con la Vigola Mezza e qui l'anno scorso Hanno diciamo in attacco questo Razzitti Un scuola a Brescia Un bel giocatore che ha segnato anche nella gara d'andata Lei che cosa diciamo Ecco tema o comunque che cosa ha preparato per questa gara In particolare No diciamo che il Catanzaro sicuramente Con l'arrivo del nuovo mister ha fatto benissimo Ha chiuso l'anno alla grande E pur avendo fatto solo un punto nelle ultime tre partite Una squadra molto viva E' una squadra che sta bene Che ha acquisito tanto autostima Fiducia Come ha detto lei Sono convinto che verrà a giocarsi la sua partita qui Per cercare di vincere Però noi dobbiamo pensare a noi stessi Dobbiamo cercare di tirar fuori la miglior prestazione possibile Grazie mille Grazie mille